Cresce la dotazione finanziaria che la Camera di Commercio del Nord Sardegna mette a disposizione per il progetto di Saludetrigu, edizione 2024. La cifra è di 600.000 euro, 100.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Passiamo da 51 comuni coinvolti nell'ultima edizione ad un'ambizione di esondare queste colonne d'Ercole grazie anche allo stanziamento rinforzato che vuole essere un segnale di quanto la Camera di Commercio creda nella promozione e nell'animazione territoriale a fini turistici. Il progetto, avviato nel 2019, è finalizzato alla valorizzazione turistica degli eventi culturali e no gastronomici di tradizione del Nord Sardegna e ha consentito in questi anni di poter immergersi in un territorio ancora tutto da scoprire per gli stessi sardi. La Camera di Commercio quest'anno ha investito 600.000 euro, ciò significa che il processo sta crescendo sempre di più, abbiamo iniziato con pochi eventi, l'anno scorso abbiamo avuto 54 eventi, io mi auguro che questo sia l'annata dei 60 eventi. Me lo auguro perché ci siamo resi conto che mancava nel territorio un coordinamento, mancava nel territorio un contenitore che potesse avere all'interno tutti gli eventi di questo Nord Sardegna, che sono tantissimi, che soprattutto hanno intorno una marea di imprese che lavorano per questi eventi. Abbiamo anche le associazioni di volontariato che finalmente si ritrovano a non essere soli, la Camera di Commercio è con loro perché loro rappresentano i cittadini e anche le imprese. Quest'anno le manifestazioni si svolgeranno dal 25 marzo al 31 dicembre e i vertici camerali auspicano di poter inserire all'interno della campagna di comunicazione anche gli eventi pasquali. Potranno presentare la candidatura entro il 2 febbraio associazioni culturali, proloquo, associazioni di rappresentanza territoriale e fondazioni. Il voucher camerale che i beneficiari riceveranno per la realizzazione dell'evento sarà pari al 50% delle spese ammissibili e ammonterà da un massimo di 12.000 euro per le prime 30 posizioni della graduatoria fino a 6.000 euro della 31esima posizione in poi.